Napoli-Milan, vedete come cambia in fretta il calcio. Durante la sosta il Napoli veniva descritto come commissariato, Garcià che era rimasto solo perché Conte aveva detto di no, il presidente dell'Aurentis presente a tutti gli allenamenti per capire che cosa stesse succedendo nella squadra, momento no con l'allenatore eccetera eccetera eccetera. Poi il Napoli ha avuto nel suo momento difficile la trasferta di Verona e la trasferta di Berlino. Il Verona che ha avuto il suo momento migliore a inizio stagione e l'Union Berlino che veniva da otto sconfitte consecutive. Naturalmente tu batti Verona e Union Berlino e ti dicono visto il Napoli si è ripreso. Noi che abbiamo avuto una sosta diversa, primi in classifica ma con vari agguati disseminati qua e là, ci siamo ritrovati invece Juventus e Paris Saint-Germain. Naturalmente le curve della stagione dipendono anche da questo. Se tu sei in un momento di difficoltà ma riesci a trovare il colpo di reni per vincere un paio di partite quali esse siano, poi vai alla terza con fiducia che è la cosa che sta succedendo a Napoli. Noi invece evidentemente sappiamo il momento che stiamo attraversando. Oggi leggevo che Kvarazveglia che veniva molto discusso a proposito di cose che nel calcio cambiano da un momento all'altro all'inizio della stagione, ormai lo hanno capito, ormai è prevedibile. Oggi invece Kvarazveglia farà una carriera migliore di quella di Kakà. Citando il fatto che entrambi al primo anno in Serie A hanno vinto lo scudetto. Kvarazveglia è un giocatore fortissimo e non vengo qui certo io a metterlo in discussione o a sminuirlo. Ci vuole sempre un pallone d'oro e una Champions per presentarsi al paragone con Kakà. Vedremo se nel corso della sua carriera Kvarazveglia ce la farà. Però questo paragone, piuttosto tosto, piuttosto ardito, viene fatto e naturalmente nell'ambiente della stampa napoletana, giustamente su di giri perché si è ripresa dopo un periodo molto molto delicato, questo paragone la dice lunga su come viene attesa la parita col Milano e quindi sta a noi un po' replicare. Naturalmente se Kvarazveglia ormai se la vede con Kakà, Leao non lo vede neanche. Io su Leao scrivo qualcosa domani mattina in editoriale su Milan News, c'è questa cosa che viene costantemente ripetuta ma insomma un top player che ha fatto solo due gol in 18 parite di Champions League. Vedete a volte come i numeri banalizzino le questioni. Io penso che il Milan abbia fatto una cosa importantissima l'anno scorso anche se la semifinale di Champions League la ricordiamo malvolentieri perché la semifinale Euroderby del 2003 ci ha portato alla vittoria della Champions a Manchester ma la semifinale Euroderby del 2023 evidentemente non ha prodotto altrettanto. Noi comunque per qualificarci alla semifinale di Champions League del 2023 siamo passati da Leao perché quando si tratta di fare la trovata ad effetto per un tweet a volte si trova il numero giusto quindi la forma giusta ma non la sostanza giusta e la sostanza giusta è che la cosa fondamentale che andava fatta per qualificare il Milan alla semifinale di Champions League vent'anni dopo l'ha fatta Leao vent'anni dopo il 2003 e naturalmente è naturalmente qualche anno in meno dopo rispetto alla semifinale del 2006 e alla finale del 2007 però la cavalcata di Leao a Napoli nel quarto di finale di ritorno di Champions League chiaro che non è un gol chiaro che il gollo firma Giroud quindi non entra nelle famose 18 partite ma Leao fa la cosa decisiva per qualificare il Milan alla semifinale di Champions League una cavalcata che qualcuno definì lebroniana quella da una parte all'altra del campo del Napoli con la palla data Giroud praticamente solo da mettere in porta e Olivier Giroud meritoriamente lo fece anche se aveva già la caviglia in disordine per qualche scontro dell'andata e quindi bisogna contarle le cose cioè non contarle perché non entra nei conti non è un gol quindi non entra nei conti ma bisogna pesarle perché la giocata di Leao a Napoli in Champions League nel quarto di finale di ritorno pesa all'infinito perché è quella che ha riportato il Milan fra le prime quattro d'Europa e non può non essere conteggiata cioè non si può fare tutta questa campagna per far passare Leao come un giocatore frillo quando poi vai a vedere ma come è arrivato il Milan alla semifinale di Champions League beh la giocata decisiva l'ha fatta Leao beh allora non è frillo guardavo su alcuni dati che Leao da quando è arrivato al Milan nel 2019 ha fatto 46 gol e 32 assist da quando Leao è nel Milan Milan che ha vinto lo scudetto nel 2022 che è arrivato secondo nel 2021 che ha fatto la Champions League nel 2023 da quando Leao è arrivato al Milan è il capo cannoniere del Milan 46 gol da quando Leao è arrivato al Milan è il miglior uomo assist del Milan 32 assist quindi appiccicare addosso a Leao l'etichetta di uno che non fa succedere le cose per carità nelle motività di due sconfitte del Milan si può fare tutto qualsiasi colpo basso qualsiasi ricognizione aerea dal campo rivale sul Milan si può fare tutto però poi bisogna andare a guardarli tutti i dati 46 gol 32 assist quindi 78 cose decisive per i gol del Milan perché per assist intendiamo assist che porta direttamente alla realizzazione di un gol e poi c'è anche il fatto che Rafa gioca tantissimo ha fatto 175 presenze c'è sempre sempre disponibile sempre anche se si gioca ogni tre giorni lui c'è c'è con una disponibilità con una voglia che va al di là del personaggio che viene raccontato che gli viene appiccicato addosso Rafa è un ragazzo molto determinato molto contento molto desideroso di giocare a calcio da quando è nel Milan nel 2019 come dribbling riusciti in tutta la serie A e secondo dietro Boga 273 dribbling riusciti da parte di Leao dal 2019 a oggi e mi sentivo ancora dire che qualche tempo fa che Leao era come Niang prima che arrivasse il paragone supremo con Balotelli quindi ecco Leao per carità non si avvicinerà neanche lontanamente a Kvarazveglia e Kvarazveglia fa il duello della storia con Kakà però intanto questi sono i numeri di Leao da quando è nel Milan e quindi bisogna tener conto di tutti i numeri non soltanto di quelli che piacciono per il resto c'è un Napoli-Milan in cui appunto si sono invertite le parti bene o male il Napoli viene da due vittorie e noi da due sconfitte diverse ma pur sempre due sconfitte poi non so se al posto nostro il Napoli avrebbe vinto sul campo del Paris Saint Germain ma il Napoli ha lo scudetto sul petto è andato nella prima urna quindi è stato sorteggiato con un girone diverso rispetto al nostro anche se pur essendo nella terza urna ci sono squadre che hanno avuto in dono dal sorteggio situazioni, partite, match, avversari diversi dai nostri è chiaro che se tu, ripeto, sei un po' tirato sei un po' tirato, adesso stiamo recuperando Khaforejovic Loftus vedremo un po' perché c'è questi dolori, questa infiammazione che va e viene speriamo che se ne vada definitivamente però dubito per Napoli la speranza è di riaverlo per l'Udinese e poi per il ritorno col Paris Saint Germain se sei un po' mezzo e mezzo con la gestione delle presenze dei giocatori più importanti e ti capita addosso la settimana di Juventus, Paris Saint Germain e Napoli ti tocca di soffrire e noi fino a domenica sera soffriremo però soffriamo io personalmente accanto alla squadra, al fianco della squadra a domenica